Pneumax è un'azienda italiana che dal 1976 progetta e realizza componentistica per l'automazione pneumatica, capofila di un gruppo da 27 società con oltre 800 collaboratori in tutto il mondo. Il settore dell'automazione è un ambiente estremamente dinamico, caratterizzato dall'esigenza di avere componenti all'avanguardia, in grado ad esempio di integrare elettronica e meccanica per fornire vere e proprie soluzioni nel campo della meccatronica. Queste devono garantire elevate prestazioni, qualità ed affidabilità. L'evoluzione tecnologica ha portato a una richiesta sempre maggiore di prodotti customizzati e un'esigenza di della riduzione del time to market e di tutti i relativi lead time, ottimizzando tutte le varie fasi, dalla progettazione alla prototipazione, alle fasi di testing e all'industrializzazione. La stampateria ci permette di sviluppare prodotti slegandoci dai normali vincoli di progettazione. Possiamo realizzare piccoli lotti produttivi senza i vincoli di tempi e costi di attrezzaggio imposti dal metodo di produttivi tradizionali. Uno dei pilastri di Pneomax è sicuramente la qualità e la qualità noi la curiamo attraverso le nostre attrezzature, la verifichiamo, la ispezioniamo. Tutti i materiali che entrano in Pneomax vengono sottoposti a verifiche qualitative. Tra le ispezioni che utilizziamo, utilizziamo anche la tomografia, quindi tomografia computerizzata. Naturalmente anche la stampa 3D viene sottoposta a questo tipo di ispezione per verificare che il materiale sia compatto e la qualità sia garantita. Un'emissione di raggi X attraversa il materiale e un rivelatore ad alta definizione ci restituisce l'immagine radiografica prima e tomografica elaborata dopo in cui è possibile apprezzare la qualità del prodotto. Grazie a tutti. Grazie a tutti.